dalla regia mi hanno chiesto oh molla il cane e adesso vediamo come fare sia le opzioni di fusione che sembra una roba mamma mia incredibile tipo questo George lo vedono loro no non vedono un cazzo che twist vabbè immaginatevelo che c'è un George fatto disegnato da Dio e poi c'è un altro disegnato abbastanza perché non c'è niente su OBS ma io non ho voglia di impostare quindi sarà tutta una sorpresa adesso prendiamo uno sfondo uno sfondo normale una roba tranquilla credibilmente lo è e adesso prendiamo una roba un po' meno tranquilla per fare sia le opzioni di fusione che timbro perché è uscito lui subito però e vabbè quindi adesso abbiamo Shang-Chi come sfondo perché guarda che è tutto storto uomo di me a povero comunque vabbè tutto duro due pixel quante vero aperte vabbè chi se ne mi so vabbè comunque dobbiamo fare ovviamente quello che vi ho insegnato prima mamma mia che forte grazie prego e non so più a fare le roba adesso giustamente adesso vi insegno un'altra cosa avete un solo colore sai quando tipo tu prendi un'immagine png poi non è png ed è bianco lo sfondo lì va ancora bene ma quando tu scarichi un png e tutte le robe sono così ti rompi il cazzo però fai finta che non è così tu fai strumento bacchetta magica tocchi sul nero sempre sperando che il nero non tocchi te ah vi faccio vedere un'ultima cosa vabbè intanto cancelli e poi cancellare lo sfondo eccolo qua solamente lo scroto in testa adesso facciamo due volte ctrl z tu dici guarda io non voglio Trizio voglio eliminarlo dalla mia mente come spiderman no fai selezione inverso e ti seleziona la parte che tu non hai selezionato tu cancelli Trizio e c'è la silhouette di Trizio probabilmente ci danno il copyright anche per questo vabbè facciamo così fai io faccio sempre ctrl a però puoi fare ctrl e tocchi qua ma a me piace fare ctrl a perché è più veloce e niente comunque ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato a nascere adesso ctrl t lo mettiamo qua lo mettiamo a mo che tipo shang chi prenda Trizio no vabbè questo lo facciamo dopo anche se non si vede un cazzo comunque le opzioni di fusione vuoi farlo seppia fai opzioni di fusione qua dunque tasto destro sul livello opzioni di fusione dunque ci sono gli stili che sono già predefiniti di loro stile di base ombra niente stile naturale madonna 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 però uno dice ma io non voglio lo stile così mi fa schifo lo voglio semplicemente tipo a modi di seppia a modi calamaro adesso dunque facciamo seppia è tipo sul arancionino una roba del genere il seppia giustamente anzi sono un coglione di merda non fate quello che ho fatto io l'agraria quindi facciamo così se mi ricordo perché aspettate fidatevi di me fidatevi fidatevi c'è nessuno eccolo facciamo sovrapposizione colore no fai qua mamma mia mamma mia eccolo qua trizio abbastanza colorato e questo è un metodo il metodo peggiore non so perché non vi ho fatto vedere questo metodo sarà l'alzheimer andate su immagine qua su a sinistra fate regolazioni no dopodiché ci dovrebbe essere una roba qui luminosità e contrasto no fai la madonna oppure oh dio santo somministrazione e fai tutto così lo eh avete capito dopodiché regolazioni fate c'è anche filtro fotografico tu prendi il colore per farlo arancione tiene sempre i suoi colori originali di uomo ultraterreno però puoi colorarlo come vuoi oppure facciamo la roba più bella che è regolazioni tonalità saturazione adesso ci sono due casi vuoi colorarlo così g nel senso i colori spastici mamma mia mamma mia oppure se tu fai colora diventa un non so come spiegarlo ma una sorta di colore unico che non prende i colori originali di trezio fai così fa tutto un bordello mentre se fai così è tutto uniforme no facciamo quale cazzo è seppia adesso così più o meno fai saturazione un po' più in là luminosità così mamma mia fidate quindi adesso l'altra cosa che dovevamo fare era timbro clone qui c'è il timbro clone ed è e funziona praticamente così tua madre puttana funziona fai così alt click tu prendi la guancia di trezio copriamogli l'occhio sinistro destro sinistro per noi fai alt click su una volta una volta lasci alt lui prende vedete il puntino se noi andiamo sempre qui in alto prende l'occhio di trezio originale prende il punto ed è diventato tensing adesso finché non fate alt click da un'altra parte lui rimane così mentre se fate alt click vedete prende lì mamma mia e uno dice ma tiranto fa abbastanza cagare hai ragione c'è un'altra roba a mo' di strumento timbro che è sono tutti questi pennello cerò che si chiama cerotto perché sembra un cerotto ma qui se no c'è anche strumento toppa strumento toppa funziona così tu prendi l'area che vuoi cambiare no dopodiché sposti e lui te lo uniforma dopodiché premi ctrl d mamma mia mamma mia questa cosa me la sognerò la notte così funziona un po' timbrocole vai facciamolo bene però ho sbagliato tasto dio verde ole eccolo qua in teoria prendi semplicemente l'area tumorata metti qua eccolo qua piano piano continui così finché non trovi perché è arrivato e va più o meno più o meno dai sembra una grossa ciste che schifo qui abbiamo messo le rughe mamma mia madonna santa che cazzo sta diventando questo gioco e la madonna sei inquietante e vabbè e finiamo la copertina giustamente lo volevamo lo volevamo mettere dentro la mano di Shang-Chi sono un pirla facciamo così si vede di merda Shang-Chi non si capirà un cazzo ma voi fidate adesso facciamo la roba che abbiamo fatto l'altro giorno immagine poi volevo dire livello maschera di livello mostra tutto premete B e qui si toglie eccolo qua facciamo così facciamo così mamma mia pazzesco ultraterreno ormai sono fissato con questa parola e lo mettiamo qua un po' come se fosse un belit eh eh mamma mia però mi fa schifo facciamo così facciamo così facciamo una roba più semplice prendiamo KK al posto dello stemma del Milan stemma di Trezio voila beautiful e adesso possiamo fare una cosa abbastanza cagare come tutto quello che faccio quindi facciamo così volete spostarli tutti e due no premi su un livello poi tieni premuto shift prendi anche l'altro livello fai CTRL T e poi modificarli entrambi allo stesso modo e che siano in dimensioni giuste come il mio italiano poi vuoi fare wide caca eccolo wide caca poi fai invio clicchi su un solo livello fai niente perché fa abbastanza cagare però va bene così perfetto eh ma dobbiamo fare la copertina hai ragione sono un coglione di merda basta marone marone dunque quindi facciamo apri prendiamo e ok posto alla e alla e perfetto mamma mia no no non vi volevo far dormire stanotte in effetti lo chiameremo ortrugo volete fare l'ombra nella scritta tasto destro opzioni diffusione oh ma l'alcan ombra esterna voilà per cambiare l'ombra esterna toccate su distanza estensione dimensione l'angolo è per vedere dove arriva la luce non si capirà un cazzo in questo video ma voi fidatevi e iscrivetevi al funky taco grazie a tutti